Prefetto, qui oggi a Pozzuoli per l'evento Air Force. Quanto sono importanti questi momenti di unità nazionale per i territori e per le città? Guardi, le frecce di colore sono un simbolo italiano, l'ho visto ieri a Pezzablebiscito e portarle a Pozzuoli con questa comice di pubblico. Penso che sia un messaggio importante per tutti. Vedo una partecipazione enorme e questo ci fa piacere. So che il sindaco e anche tutte le forze dell'ordine ci hanno lavorato tanto, ci hanno creduto e siamo tutti quanti soddisfatti di questo evento. Un momento di unità nazionale che riguarda anche l'Italia a livello nazionale per quanto sta accadendo. Cosa si può dire in questi momenti? Unicamente di essere ottimisti, bisogna lavorarci, che i problemi si possono affrontare e ovviamente sperare che si possano risolvere.